Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Un Tempo Nuovo. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Bisogna scrollarsi il male e tutte le azioni negative perché il male ci porta sempre su cattive strade e tra la gente dobbiamo quindi far vedere che sappiamo fare cose positive e creare un bene comune. Quindi questo passaggio dal male al bene sarebbe il risorgere alla vita compiendo qualcosa di positivo e evidenziando la gloria divina da dove deriva questa bontà, il lume solenne della santità. Un Tempo Nuovo quindi può sorgere se ci sarà un sogno acceso dove passeremo dal male al bene. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Un Tempo Nuovo. Scrollatevi il male e tutte le azioni negative che vi portano a disfare il bene tra la gente. Risorgite la vita compiendo il bene e la gloria divina sia il vostro lume solenne. Un Tempo Nuovo sorgerà per voi sarà un sogno acceso ricco di azioni e ricchi passi. Un nuovo incanto sublime arricchisca la vostra vita di gioia viva e solenne regna di ottima riuscita. Grazie, condividete, arrivederci.